Nel mese di luglio a Limone Piemonte si terrà l'evento Premio alla Buona Volontà che vedrà premiata fra gli altri anche Mariella Carda, voce di Radio Stereo 5 e con noi l'organizzatore dell'evento Dino Rossetti. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Ecco, volevo precisare, AICA SUCEPI, Associazione Interscambi Culturali e Artistici Sociali perché ci occupiamo anche del sociale. UCEPI, Unione Cittadini Esperti Professionisti Internazionali. Noi premiamo anche le altre associazioni, ci sarà Tiziana Nasi, presidentessa della FISIP Paraolimpici e quindi chi andiamo a premiare naturalmente deve essere soprattutto una persona di buona volontà. Ecco perché abbiamo valutato tutti insieme questo premio anche per Mariella Carda proprio perché so com'è iniziato, abbiamo indagato. In base a quale criterio avete pensato di premiare anche la nostra Mariella Carda? Ma è una donna che ha avuto tanta forza di volontà, si è impegnata moltissimo, ha imparato. Veramente, io in particolare ho preso informazioni, la sentivo, era in sospeso già da qualche anno ma il fatto di aver lasciato in sospeso questo premio proprio per Mariella è stato perché ho detto speriamo di arrivare al premio internazionale. I vostri premi internazionali viaggiano dal più umile al massimo dei vertici? Sì, soprattutto perché il premio è un premio alla bontà, quindi alla buona volontà. Se io mi incontro e vedo un operatore ecologico ma vedo che fa il suo dovere, che si comporta bene nel vero senso della parola, lo punto come ad esempio anche la donna imprenditrice che mi sale sui tetti e lavora con i suoi operai, anche se non è italiana. Quindi benvenuti anche gli stranieri che arrivano in Italia e lavorano. Noi premiamo anche gli imprenditori. C'è un imprenditore che ha iniziato negli anni 90, chi l'avrebbe detto che è partito da una piccola officina con un debito che si è fatto con un tornio, adesso ha acquistato diverse aziende. Bene, allora non ci resta che invitare tutti all'evento. Vi aspetto tutti a Limone, l'inaugurazione alle ore 17 del 9 di luglio presso l'Eccelsior. Iniziamo con una mostra d'arte, al 16 naturalmente c'è il grande evento internazionale. E noi ringraziamo Dino Rossetti, organizzatore del premio Buona Volontà. Grazie e buon lavoro, alla prossima. Grazie.